Era stata portata ad urgenza dall'ospedale annunziata di Cosenza a Roma al Bambin Gesù con un volo dell'aeronautica militare il 23 agosto nella speranza di recuperare le gravi complicanze dovute al covid. Non ce l'ha fatta la piccola Sofia di 5 anni che ha lottato tra la vita e la morte per più di una settimana. La bimba era ricoverata nel reparto di terapia intensiva in coma farmacologico e intubati. I medici hanno tentato di tutto per salvarla improvvisamente però le sue condizioni si sono aggravate. Non si sa se a causa del covid ma in poche ore la piccola è purtroppo deceduta.